Dovete ristrutturare casa? Affidatevi alla professionalità e puntualità dell'impresa Consiglio, da anni presente nel settore dell'edilizia. Grazie all'esperienza trentennale maturata e tramandata da padre in figlio, siamo in grado di offrire alla clientela servizi quali ristrutturazione chiavi in mano di appartamenti, ristrutturazione ville, piastrellatura, cucina in muratura, realizzazione di tetti in legno, rivestimenti in mosaico, impermeabilizzazioni, tinteggiatura. Tutti i lavori vengono eseguiti a regola d'arte con materiale di prima scelta da personale qualificato. Impresa Consiglio, un consiglio per la tua casa. Preventivi e sopralluoghi gratuiti, si eseguono lavori su Palermo e provincia. Ci trovate a Terrasini, in via Perez 268, telefono 091-868-4428, cellulare 338-330-6403, oppure www.impresaconsiglio.net. Impresa Consiglio, di Marco Consiglio. Costruiamo le vostre idee. Costruiamo le vostre idee.